Con una veloce presentazione, applauso ragazzi, per ognuno di loro, partiamo dal primo, Simone Cesare! E andiamo, andiamo velocemente, un applauso, un po' di rumore per Luca Fattola! Ragazzi applauso, come sentiamo il turno di Domino Rossi! E ancora, in meccanerebbe, fuori la voce per Mattia Schiavini! Yamaduro 18, sempre solo, Carlo Salesana! E fine, e fine, la Honda 4.50, unica solo, Vicky Monti! Ok, abbiamo fatti scattare, abbiamo preso entrati, adesso è arrivato l'omento di iniziare a fare tutto il serio. Ok. Ok, via, ragazzi, andiamo! Ok, via, ragazzi, andiamo! Ok. 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 il cuore fatto il cuore fatto il cuore fatto e le caccare di si potesse venire a chiudere il cuore fatto il diametro di giornata il da buccio e la buccia una buccia e la buccia l'acqua di canto di una deluzione un'altra stazione ancora la buccia sono calenti con Buongiorno a tutti 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 Buongiorno a tutti